Il trattamento con Apixaban ha un vantaggio fondamentale nei confronti della tradizionale terapia con eparina a basso peso molecolare o con varfarin. Dovete considerare che questi farmaci sono sicuramente efficaci quanto Apixaban nel prevenire le recidive, ma al costo di un numero di sanguinamenti estremamente maggiore. Apixaban protegge meglio il nostro paziente dai sanguinamenti e soprattutto dai sanguinamenti estremamente gravi, quelli che sono pericolosi per la vita. Nel momento in cui noi ci troviamo di fronte a un paziente dobbiamo fondamentalmente intervistarlo, sapere bene dal nostro paziente quali sono le sue caratteristiche. Il paziente che va incontro a una TEV, un primo episodio che è stato supportato da un evento che ragionevolmente ci spiega perché questa trombosi venuta profonda è avvenuta, dovrà fare una terapia breve, interromperla e dovrà considerarsi guarito. Nei pazienti in cui noi invece abbiamo dei fattori di rischio aggiuntivi, quali può essere la trombofilia, quali possono essere fattori acquisiti che aumentano il rischio di avere una trombosi venosa profonda recidivante, il trattamento deve essere esteso a sei mesi o anche per un tempo indeterminato. La somministrazione dei farmaci svolge un ruolo fondamentale nella vita reale di tutti i giorni. somministrare un farmaco in doppia somministrazione ci permette di garantire una maggior compliance del nostro paziente. Nel momento in cui il paziente che nella vita reale potrebbe andare incontro per esempio a una dimenticanza, dimenticare la dose del mattino, comunque sia avrà una finestra in cui resterà, potremmo dire scoperto dalla nostra terapia, estremamente ridotta in quanto nelle 12 ore successive avrà la possibilità di assumere una seconda dose di farmaco. Questo ci permetterà di avere una concentrazione plasmatica del farmaco che oscillerà in maniera meno importante rispetto a quello che potrebbe succedere con una monosomministrazione. Nella vita quotidiana dei nostri pazienti il trattamento convenzionale con il varfarin si associava a una serie di impegni, quale la periodica visita per la valutazione dell'INR. L'introduzione dei nuovi farmaci ha sicuramente modificato il modo di gestire il nostro paziente. Questo da un certo punto di vista ha impattato sia sulla vita del paziente che qualora possa essere dedicato a una nuova terapia, quale quella con i NOAC, sicuramente avrà una qualità di vita e una gestibilità della sua vita molto migliore, ma dall'altra parte ha modificato l'approccio dei centri trombosi in quanto si sono trovati ad avere diverse opportunità terapeutiche e questo ha migliorato ovviamente la possibilità di ritagliare addosso a ciascun paziente la terapia migliore, rendendo più fluido il lavoro e migliorando certamente le opportunità che abbiamo nei confronti della gestione del nostro paziente. La mancanza di un antidoto viene spesso portata da alcuni nostri colleghi come un motivo di preoccupazione, ma questo in realtà è veramente da considerarsi un falso problema. Voi dovete considerare che anche con la terapia tradizionale, quella con il warfarin, l'utilizzo del conachion che viene in qualche modo considerato un antidoto non è quello che si può considerare un vero e proprio reverter. Noi sappiamo che l'infusione endovenosa di conachion, nella migliore delle ipotesi, necessiterà di un tempo medio tra le 3 e le 4 ore per revertire completamente l'efficacia di questa terapia. In una sala rossa, tutti voi mi potete confermare, non sono le 4 ore quelle che si ricercano, ma è un effetto istantaneo. Nel momento in cui ne abbiamo necessità di revertire in maniera rapida ed efficace il trattamento con Coumadin, esattamente come quello che noi abbiamo in questo momento con i nuovi farmaci, in sala rossa ci si affida i concentrati protrombinici e questi valgono per i NOAC e poi valgono per il warfarin, con tutte le limitazioni legate ai pochi studi ad essi dedicati. L'introduzione degli antidoti invece cambierà completamente lo scenario. A brevissimo avremo la disponibilità di un farmaco che in seguito alla sua somministrazione reverterà completamente nell'arco di minuti l'efficacia dei NOAC e in questo caso a questo punto bisognerà chiedersi qual è il farmaco più opportuno per la gestione del nostro paziente.